Amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni autosportive oggi parliamo di Peugeot sono macchine che ci capitano magari più raramente rispetto ad altri marchi però comunque ce ne capitano e in particolare parliamo di una RCZ che è una macchina non molto diffusa ma dal mio punto di vista molto bella come linea due dati tecnici su questa vettura è una macchina che è stata lanciata nel 2009 e fa un po l'occhiolino all'Audi TT quindi diciamo che è stata sviluppata dalla Peugeot per contrastare o per avere appunto un'analogia come macchina sportiva in maniera particolare sulla falsariga appunto dell'Audi TT o similari veniva proposta in due motorizzazioni c'era anche la versione diesel ma quella la saltiamo il motore benzina è il classico 1600 THP che veniva proposto inizialmente in due motorizzazioni il 156 cavalli e il 200 cavalli questo in particolare è il 200 cavalli c'è da dire che è un motore particolare nel senso un motore delicato sul quale bisogna stare attenti a non esagerare con il grado di preparazione perché appunto qualche piccola pecca diciamo da un punto di vista meccanico se la porta dietro c'è da dire che la Peugeot due anni dopo quindi nel 2011 ha presentato appunto l'RCZ in versione R con ben 270 cavalli che uno dice vabbè da 156 a 270 è la stessa cosa lì purtroppo non è esattamente così nel senso che la versione R sì era sempre il 1600 THP ma completamente rivista corretta aveva dei pistoni stampati aveva gli spruzzatori dell'olio sotto i pistoni intercooler maggiorato turbine di diverso tipo completamente rivista un altro tipo di motore e quindi si poteva permettere un'affidabilità con 270 cavalli quindi diciamo che su queste macchine noi qui siamo intervenuti in due ambiti uno è la parte motore quindi la classica rimappatura della centralina che abbiamo eseguito via preso BD e con il cliente si è rimasti sul su ambiti di 30 cavalli come potenza e 45 48 newton metri di coppia questo proprio per non andare a stressare troppo le pressioni quindi la pressione del rail e la pressione del turbo e mantenere sempre un'affidabilità più che accettabile contestualmente quando abbiamo preso in carico la macchina la macchina aveva la spia motore accesa e ci siamo accorti di uno dei classici problemi che quasi tutti questi motori hanno questo motore ha una pompa dell'acqua e ha una turbina particolare che viene raffreddata parzialmente con l'olio e parzialmente con l'acqua appunto tramite questa pompa e spessissimo questa pompa si rompe per cui comincia a trafilare acqua e ovviamente la turbina ne risente perché ha un raffreddamento minore e corriamo il rischio di avere dei problemi soprattutto sulle bronzine e poi ovviamente il livello dell'acqua decade quindi di questo tipo di problemi di questo tipo di pompe su motori di questo genere ne abbiamo cambiati veramente spesso quindi sono cose che conosciamo nel momento in cui c'è appunto una problematica andiamo a controllare subito questo tipo di pompa viene fornita una pompa modificata e quindi in linea teorica questo tipo di problema viene risolto in maniera definitiva quindi a livello di motore abbiamo fatto una riparazione che assolutamente era necessaria la classica rimappatura e poi abbiamo fatto un lavoro all'interno in questo caso abbiamo sostituito il cockpit originale adesso è dentro non riesco a farvelo vedere comunque per chi conosce questa macchina vede che qua c'è un cockpit completamente modificato con una sorgente multimediale di ultima generazione quindi in questo caso abbiamo fatto un upgrade sia da un punto estetico da un punto di vista estetico perché si integra perfettamente con il look della macchina rispetto a quello precedente che ormai qualche anno ce l'aveva sul groppone quindi 12 anni di evoluzione anche estetica nelle macchine si sentono questo è un bellissimo oggetto da un punto di vista sia funzionale che estetico oltretutto non costa delle cifre particolarmente proibitive e questo genere di kit adesso sono delle ditte che li realizzano per svariate vetture per cui c'è quello appunto per l'RCZ ovviamente in particolare con le sue misure con i suoi cablaggi deve essere chiaramente un prodotto plug and play ma ci sono prodotti per tantissime vetture per cui questo genere di upgrade si può fare anche su vetture di casi diverse io direi che anche per per oggi per questa RCZ è tutto vi invito a come al solito cliccare sulla campanella di sotto iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo se avete bisogno di qualunque genere informazioni mi potete sempre trovare in sede allo 027383175 io sono lì per qualunque tipo di consiglio i consigli non sono a pagamento quindi chiamatemi quando volete vi do tutti i consigli sulla base della mia esperienza poi ripeto c'è gente che magari ne sa anche molto di più però diciamo che qualcosina in 34 anni di lavoro l'ho imparata per cui ve li dispenso volentieri e soprattutto vi invito a consultare il sito www.9000giri.it soprattutto nella parte archivio elaborazione dove trovate più di 3600 schede vettura quindi se andate a vedere a Peugeot ce ne sono un diverso numero e anche in particolare all'RCZ e poi anche la parte legata a tutto quello che sono le nostre attività quindi non solo quello che noi svolgiamo sul motore e i diversi sottoambiti del motore ma anche assetto impianto frenante estetica esterna estetica interna quindi direi che anche per oggi è tutto ci aggiorniamo con il prossimo video un saluto